Interruzione delle relazioni sindacali, almeno per il momento, tra FP CGL, CISL FP e Will FPL e l'ASL Taranto. I confederali hanno proclamato uno sciopero con CITIN per il prossimo 10 agosto davanti alla sede ASL di Viale Virgilio 31. I sindacati lamentano tra l'altro la mancanza di un confronto degno di questo nome, il mancato riconoscimento economico Covid ai lavoratori e il frazionamento di alcuni servizi a danno dell'utenza. Abbiamo ascoltato Emiliano Messina, segretario Will FPL, Mino Bellanova della FP CGL e Giuseppe Lacorte della segreteria Will FPL. È una situazione gravissima in cui ci troviamo con l'ASL Taranto perché ormai le relazioni sindacali che noi oltretutto, la cui mancanza noi denunciamo ormai da molto tempo, sono praticamente inesistenti. Per cui l'ASL continua a fare tutta una serie di scelte in completa autonomia, scelte che hanno delle ricadute economiche, hanno delle ricadute occupazionali, hanno delle ricadute di organizzazione del lavoro. Il meccanismo usuale in questi casi, una volta proclamato lo sciopero secondo i periodi di franchigia previsti dalla norma, ci aspettiamo e chiederemo al prefetto di avviare la procedura di raffreddamento. Questo ovviamente non modifica l'organizzazione della manifestazione che si terrà per il 10 di agosto, anche perché alla luce degli incontri regionali, degli accordi firmati da CGL e CISLE Will, avere in questo momento l'ASL Taranto organizzata su un ufficio di relazioni sindacali che spesso scopre le spalle al management, evidentemente in un dialogo tra sordi l'unica voce che si sentirà sarà la protesta dei lavoratori. I lavoratori sono arrabbiati perché, come dicevo, troppe sono state le promesse e pochissimi sono stati fatti. Si anticipava al problema dell'indenità Covid, che è un'indenità di disagio che bisognava dare ai lavoratori. Per tutto quello che hanno subito, che ancora continuano a subire, non c'è la minima attenzione da parte di questa azienda a riconoscere quello che effettivamente loro fanno.